Via Mazzini, come potete vedere, gli operai tappabuchi della ditta al quale sono stati affidati i lavori, hanno tappato questa buca mettendo il catrame all'interno, proprio già piena d'acqua, in una pozzanghera d'acqua. Quindi questo è un lavoro inutile, è un inutile sperfero di denaro pubblico, perché adesso le macchine che stanno passando da qui ci passano di sopra e diventa ben verificato in tutto. Quindi con quali criteri? Ma l'assessore dei lavori pubblici...